Ciao a tutte ragazze e bentornati sul mio canale! Oggi è notata con un nuovo video! Allora, questo video sono degli usi alternativi del burro cacao. Allora, iniziamo con il primo. Io ad esempio, no? Ho 16 anni e alcune volte nelle feste porto i tacchi. Sono però una ragazza che i piedi non fanno male. Non mi fanno male i piedi. Per cui non ho bisogno di mettere cerotti, solette o roba varia. Però, durante le feste ovviamente a qualcuna, a qualcuna fama nel piede. E un uso molto molto buono è di mettere il burro cacao sul tallone, non sul tallone, sul... Non so come si chiama. Sulla parte qui dietro. No, non riuscirò mai ad alzare la gamba. Però vabbè ragazzi, ho il tallone sopra la parte. Comunque, dove finisce l'attacco, rimettere il burro cacao e rimettersi la scarpa. Il burro cacao farà da isolante, per cui non vi dovrebbe più far male, in teoria. Provateci magari se portate i tacchi, poi riferitemi. Oppure, un altro uso potrebbe essere... Ho comprato poco tempo fa un paio di jeans e non mi sono accorta, quando li ho provati, che la zip non scorre perfettamente. Per farla scorrere in modo senza avere problemi, ci si può passare il burro cacao sulla zip e tornerà a funzionare. Oppure, correggere il make-up. Ad esempio, mettete il mascara e per sbaglio vi sporcate qui sopra. Allora, mettete il burro cacao qui, sulla palpebra. Poi, con un coton fiocco, struciare e andrà via. Andrà via al... Ad esempio, avete il naso screpolato. Come me sono raffreddata e ovviamente il mio povero nasino, a forza di soffiare, soffiare, si è screpolato. Allora, passo il burro cacao qui, dove è ovviamente più rosso, e risana comunque la pelle, ovviamente come d'altronde le labbra. Quando le abbiamo scremolate, mettiamo il burro cacao e quelle le risanerà. È stessa cosa al naso. Oppure, le cuticole delle mani. Ci sono alcune volte che sono tutte secche, magari per il freddo, la pioggia, per tanto tempo le mani nell'acqua. Allora, mettiamo il burro cacao sempre qui intorno all'unghia, se le si chiama la cuticola, e le ammorbidirà. Oppure, non vi esce l'anello, no? Dalla mano, non esce. Mettete il burro cacao, mettetene tanto, anello e le dito. E alla fine uscirà. A me mi esce tranquillamente. Però, che ciglia. Altro metodo molto molto utile per me, ad esempio, che ho le ciglia che vanno dove cavolo vogliono, è pettinare le sopracciglia. In pratica passate, cioè, il burro cacao proprio, lo stick, qui sopra le sopracciglie, e le ammorbidi, e le pettinerà tutte. E quindi torneranno, magari, decenti. Io sì, l'ho provata, l'ho provate. L'ho provato questo metodo, infatti, funziona davvero. Quindi, niente, questi sono gli usi alternativi del burro cacao. Se questo video vi è stato utile, un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E aspetto, magari, dei vostri commenti, se qualcuno già lo conoscevate, oppure... Un buon sole grandissimo, e al prossimo video. Ciao!